Venere l'amore! Mario e che ci fai ancora vestito così? La laurea è tra un'ora! Ho deciso di non venire! No basta Mario eh, basta! Eravate fidanzati! Che vi siete lasciati? Lei posta foto felice! E tu ascolti Massimo Ranieri! Lei effettivamente ha molto successo nel lavoro! E tu sei un morto di fame! Vabbè ragazzi però così non mi aiutate eh! Basta eh, basta con sto comportamento! No, su queste cose sono inamovibili! E poi ci sarà pure il fidanzato, la famiglia con cui peraltro avevo pure discusso! E poi queste manifestazioni culturali da alta blocchisia non fanno per me! Mario! Ma ci stai pure tu? Flavia! Guarda che stacca! C'è un sceme che mi dai tu! Però non esageriamo adesso eh! No Mario ma che devi si affuma? No no, passavo! Ma io ti dicevi che non c'è buona niente! C'hai capito eh? Io sono morto di fame! Ti porta a mangiare la pizza in stasera! Ciao! Ciao!